è finalmente arrivato il momento il mio reame è stato aperto e ora le prime persone potranno già iniziare ad entrarci e ho un'ottima notizia da darvi questa volta tutti potranno entrare senza dover guardare ore di live oppure spendere punti l'unica cosa che vi serve per giocare con me è il discord se volete sapere come fare per entrare nel reame unitevi al mio server discord troverete il link giù in descrizione una volta entrati andate nella categoria minecraft sotto informazioni lì c'è scritto tutto ciò che dovete sapere sul reame e su come fare per entrarci assicuratevi di leggere tutto bene e di non infrangere le regole per non venire bannati tenete a mente che questa volta chiunque potrà entrare e giocare ma per motivi di sicurezza soltanto agli abbonati con l'abbonamento player o superiore sarà concesso di rimanere nel reame anche mentre io non ci sono tutti gli altri invece potranno entrare gratuitamente durante le live di minecraft e polandia che inizierò presto a fare sul canale detto questo noi ci vedremo molto presto con la prossima live non vedo l'ora di poter giocare con voi